Dopo la vittoria contro Udinese, il Torino ha raggiunto 30 punti in 21 partite, traguardo e guagliato soltanto altre due volte nella sua storia, ma ora il Torino appunto è chiamato a fare lo step successivo. Ma come si può fare? Beh, secondo me il primo passo sarebbe quello di raggiungere una quadra definitiva tra tutti i componenti della società, quindi guida tecnica, dietro sportivo e proprietà. Si sa che Cairo è uno che spende poco, i rapporti tra Juric e Vagnati non sono ottimali, poi vi è questo contatto di Juric che ancora non si sa se verrà rinnovato o meno. Inoltre, ieri Cairo ha speso anche qualche parola riguardo Lukic, ha detto che la situazione di Lukic era simile a quella di Belotti, si sapeva che non avrebbe rinnovato. Quindi, alla luce di ciò, voi avreste seguito quello che ha fatto Cairo, quindi cedere il giocatore a gennaio, o l'avreste ceduto per meno soldi a partire dal primo luglio 20-23? Io onestamente in questo caso avallo la scelta di Cairo, quindi avrei ceduto Lukic a gennaio.